Certo! Bene! Ehi! Cosa? Ti vuoi sconvolgere? Ciao! No, volevo dire salve! Sì, dica pure! Vogliamo dare un'occhiata qui in giro? Firma, devi fermare qui! È una galleria d'arte, non lo sapete, immagino! Come no? Ci sono già stato! Sono sicuro! Sei sicura? Sicura, sicura! Siamo sicuri! 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 Lei è sicura? Bellissimo! Mi piacciono queste cose appese al muro! Sono una strana via di mezzo fra un quadro, una scultura in metallo e un'insegna al neon! Che sballo, amico! Ok, ok! Dì! Mi assomiglia! Girati un po' a sinistra, su il mento! Ecco così! Una somiglianza perfetta! Eccetto gli occhi! I tuoi sono più belli! Oh, queste luci sono grandiose! Questa mi piace da morire! Lo capisco! Sicuramente costa più di tutto quello che ho mai venduto messo insieme! Oh, andiamo, George! Penso che tu sia un grande artista! Come fai a saperlo se non hai mai visto un mio lavoro? Vabbè! E quando lo vedrò sono sicura che mi piacerà moltissimo! Vieni, vieni! Andiamo nell'altra sala! Voglio farti vedere qualcosa che mi ha sempre affascinato! Venivo qui ore e ore! Rimanevo qui davanti a guardarla! Che cos'è? È una sorpresa! Oddio! È incredibile! Ma che cos'è? Che cosa rappresenta? La mente universale! Mi sembra... sconvolta! Come noi! È incredibile! Non è fantastica? Quanto sarà alta? Sarà... non finisce mai! Credi che la signora Stoller ci permetterà di tenerla in casa? Lo sai? Insieme a te sta così bene! Mi diverto un sacco! Anch'io non mi ricordo di avere mai riso così! Senti, senti! Io... io credo che forse noi potremmo... Che noi potremmo? Beh, potremmo uscire insieme una sera, che so... Magari andare al cinema e poi... Che ne dici? Ti piacerebbe? Sì? Sicuro? Per me... Per me sarebbe... Ecco... Ecco... Scappiamo via! Ma perché? Che sta succedendo? Cosa hai visto, George? Santa Maria, madre di Dio! George, ti prego, parla! Aiutami! Che cavolo ti prende? Fermati! Non fare il matto! Perché scappi? Si può sapere dove diavolo vai! Ma che ti succede? Aspetta! Avanti! Ha avuto notizie del suo paziente? No, non ancora. Gli ho appena lasciato un messaggio a casa. Mi richiameranno. Sono sicura che tornerà in ospedale. Me lo auguro. etwas di questo. Ho da erhaltene! Grazie a tutti